FEDEZ Ha ceduto alla commozione Federico Lucia in arte FEDEZ durante l'intervista a cuore aperto di Francesca Fagnani a Belve. FEDEZ si è lasciato andare alle lacrime, non ponendo, come sempre, nessun filtro tra lui e il pubblico. Incalzato dalle domande della Fagnani, FEDEZ ha risposto con sincerità, parlando proprio di tutto. Nessun argomento escluso, nemmeno quello riguardante la crisi con Chiara Ferragni e il rapporto con i figli Leone e Vittoria. Ma il focus dell'intervista non sarà il suo matrimonio, bensì la sua vita a 360 gradi, nonostante il momento delicato e virale che il rapper sta attraversando. Nelle prime immagini diffuse dalla rete si vede trasparire infatti tutta la commozione delle rapper. E chissà, forse capiremo se i due hanno qualche possibilità di tornare insieme oppure no. Ciao amici, mi chiamo Federico e sarò il prossimo ospite di Belve. Mi hanno detto che devo fare una piccola intro e so che questa intro non sarà mai bella come quella che ha fatto Matteo Salvini. Ciao amici. 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 Grazie a tutti.